Secondo la Società Italiana Malattie Infettive, la Sicilia è tra le regioni più esposte al contagio ebola. Il medico rischio basso dai migranti. Lucia Borsellino, vigiliamo. Davide Saia. Casi sporadici di ebola in Europa sono inevitabili, ma il rischio di diffusione del virus è eludibile ed estremamente basso. Queste le rassicurazioni dei vertici europei dell'OMS. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo il caso spagnolo, sottolinea come l'Europa sia all'avanguardia nel fronteggiare casi di patologie virali. E rassicurazioni giungono anche dagli esperti della sanità regionale siciliana. Lo stesso assessore a ramo, Lucia Borsellino, pur affermando che il rischio di contagio c'è, ma sia bassissimo, ha annunciato che in tutti gli ospedali dell'isola si stanno già predisponendo rigide misure preventive che coinvolgeranno anche il personale medico e paramedico tramite esercitazioni atte a scongiurare ogni pericolo. Inoltre sono già stati predisposti, secondo indicazioni ministeriali, potenziamenti sia sul piano strutturale con l'aumento dei posti letto all'interno dei nosocomi che sul piano di assistenza alla cittadinanza. Meno ottimista è invece il pensiero di Antonio Chirianni, vicepresidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Secondo Chirianni, le regioni italiane geograficamente più esposte al virus sono quelle costiere e la Sicilia, aggiunge il responsabile della CIMIT, sembra essere la regione più interessata ad un possibile contagio a causa dei continui sbarchi. Contenere flussi ai traffici aerei, continua Chirianni, appare difficile, ragion per cui non è da escludere né da sottostimare il rischio di un'infezione epidemica. Ma Enzo Farinella, primario dell'ospedale Cervello di Palermo, mette in guardia da facili allarmismi. Il medico spiega infatti che non è corretto ipotizzare una sovraesposizione della Sicilia in quanto terra di sbarchi, poiché il rischio è condizionato dai flussi dei viaggiatori e non dai migranti. E poi, perché i tempi di incubazione della patologia sono di due o tre settimane e quindi una volta giunti sulle nostre coste i sintomi dovrebbero essere già riscontrabili. È giusto quindi tenere alta l'attenzione e svolgere dovuti controlli. Ma è giusto anche, afferma Farinella, evitare paranoie sociali, come avvenne per il caso della viaria e della SARS.